La crisi non spaventa le donne, almeno secondo la Camera di Commercio di Lecce che ha pubblicato i dati relativi all'azienda rosa del Salento. Nel secondo trimestre dell'anno, da aprile a giugno, sono 426 le imprese al femminile che si sono iscritte nell'anagrafe camerale, a fronte di 264 cancellazioni per un saldo positivo di 162 imprese. In provincia di Lecce le aziende rosa sono 15.854, più del 22% del totale delle imprese. Oltre la metà delle aziende femminili appartengono ai settori del commercio e dell'agricoltura, seguono i servizi di alloggio e di ristorazione, i servizi alla persona e le attività manifatturiere. I primi due settori hanno registrato un tasso di sviluppo positivo, mentre il settore manifatturiero ha presentato un tasso di sviluppo negativo. E il capoluogo salentino, ad avere il maggior numero di imprese femminili, segue Nardò e Galatina. Il Comune di Lecce è anche quello che, fra i tre, presenta il miglior tasso di sviluppo. La miglior performance, però, in termini di tasso di sviluppo la registrano Morciano di Leuca e Patù. La maglia nera, invece, aspetta i comuni di Zollino e Guagnano. Nonostante fosse stato visto dai proprietari, incurante ha continuato a cercare di rubare una moto, ma alla fine, per Delia Ori, all'albanese di 32 anni, sono scattate le manette. Una volante della polizia, infatti, è intervenuta in via Candido su segnalazione di un cittadino. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato il giovane albanese che cercava di rubare una Honda Transalp di colore grigio, parcheggiata in strada. Prima dei poliziotti, anche i proprietari della moto avevano sorpreso il ladro, con la quale è subito scaturita una colluttazione. Alla vista degli agenti, il ragazzo è fuggito in direzione di via Paesiello, ma è stato inseguito dal proprietario della moto. A quel punto Ori ha l'aggredito l'uomo con calci e pugni. I poliziotti, grazie alla descrizione fornita e seguendo la via di fuga, sono riusciti a bloccare il ladro in via Duca degli Abruzzi. Perquisito, addosso al giovane albanese, è stato trovato anche un coltello di 12 centimetri. Il proprietario della moto è stato medicato in ospedale, mentre per il ladro sono scattate le manette per tentata rapina, possesso illegale di coltello e lesioni dolose. Non fidatevi sempre degli acquisti online. Ad uno sfortunato anziano di Otranto, infatti, è andata male. Nel dicembre scorso aveva acquistato, consultando l'inserzione su eBay dell'utente Giuscalo 393, un telefono cellulare iPhone 5 tramite un versamento di 409 euro, dopo averne concordato le modalità via email con il venditore ed effettuando il relativo bonifico bancario. Il venditore, l'indomani, sempre tramite email, gli comunicava di aver ricevuto la somma di denaro e che avrebbe provveduto a spedire il telefonino, fornendogli l'identificativo di spedizione. Trascorsi una decina di giorni senza ricevere il telefonino ed avendo accertato che il codice di riferimento fornito gli faceva riferimento a tutt'altra merce spedita regolarmente da altre persone, l'anziano ha sollecitato l'intervento di eBay, ma inutilmente. In seguito a verifiche della polizia allora è stato possibile accertare che la carta prepagata rilasciata dall'Istituto di Moneta Elettronica, attualmente disattivata con cui è stata perfezionata la transazione, era intestata ad un indagato e su quella carta era stata accreditata la somma pattuita per chiudere la truffa. Come ridurre gli sprechi di farmaci per diminuire l'inquinamento? Per incrementare la consapevolezza dei cittadini si terrà da oggi fino a domenica nel parco di Belloluogo a Lecce la campagna dell'associazione Onlus persone con malattie reumatiche che dalle 15.30 alle 21.30 raccoglierà i farmaci scaduti nel contesto del progetto Green Health Fai la Differenza, campagna di sensibilizzazione in cartellone nella quinta edizione del Green Sound Festival. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Conil Sud, tende a indicare anche i vantaggi che all'ambiente procura il corretto smaltimento dei farmaci. L'iniziativa, patrocinata dall'Asle di Lecce, è l'occasione per riflettere sulle frequenti proposte di liberalizzare la vendita dei farmaci come sottolinea il dottor Di Tolla, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Lecce. Si parla di liberalizzare l'uso dei farmaci ma i cittadini probabilmente non sono ancora educati a farlo. Non è solo una questione di educazione ma l'utilizzo proprio delle risorse. Il farmaco non è un bene di consumo ma è uno strumento per la quale raggiungere il benessere, raggiungere lo stato di salute. Noi abbiamo sempre, almeno alcuni hanno sempre banalizzato l'uso del farmaco di alcuni farmaci. Noi riteniamo invece da farmacisti, da professionisti del farmaco che è molto importante l'uso consapevole del farmaco. Il farmaco non va soltanto utilizzato in maniera impropria perché c'è il 3x2. ma va utilizzato nel momento in cui c'è la necessità. Quindi non ha nessun senso, noi ci stiamo battendo da una vita sul razionalizzare le confezioni, sull'avere la possibilità di dispensare in base alla quantità di farmaco necessario e non scatole to-cour che servono soltanto a, se andiamo a vedere nei rifiuti, troviamo tanti farmaci inutilizzati. Dottoressa, quali sono le finalità di questa iniziativa? Il nostro progetto Green Health vuole aiutare il cittadino a usare consapevolmente i farmaci, quindi il farmaco non deve essere considerato come un bene di consumo, ma deve essere considerato come uno strumento per curare la nostra salute, quindi va adoperato solo quando è necessario. E poi dobbiamo anche imparare, lo scopo è quello di insegnare ai cittadini a smaltire correttamente il farmaco, perché il farmaco può creare molto inquinamento e quindi ovviamente va smaltito in maniera corretta. Avevano dichiarato di aver diritto all'esenzione ticket, ma l'Agenzia delle Entrate non ha convalidato la richiesta, così circa 27.000 assistiti dell'ASA di Lecce dovranno pagare interessi e sanzioni per un importo complessivo di quasi 3 milioni e mezzo di euro. Questa situazione è fotografata dal Comitato di tutela della salute Mano Amica, presieduta da Cesare Mazzotta, che spiega il fenomeno con l'acuirsi della crisi occupazionale. Non solo, ma addirittura potrebbe non trattarsi di una truffa, ma di una difficoltà oggettiva nell'esame delle domande di esenzione ticket. Ad aprile scorso, per esempio, si scoprì che il Ministero aveva commesso un madornale errore. Il dichiarante si era riferito ai dati reddituali del 2013, mentre il Ministero era in possesso dei soli dati delle dichiarazioni dei redditi del 2012. E anche quest'anno l'ASA di Lecce è stata costretta a fare retromarcia. Dopo aver inviato le prime 298 comunicazioni per il recupero del ticket 2011, è stato rilevato un cospicuo numero di posizioni in regola. Il sistema non aveva tenuto conto dell'inalzamento della soglia di reddito per la presenza di figli e coniuge a carico. Nelle prossime settimane l'ASA comunicherà agli assistiti l'ammontare della quota non versata e assegnerà un tempo da 30 a 120 giorni per pagare e per presentare memorie difensive. Si partirà con l'invio delle prime 10.000 comunicazioni, quelle con gli importi più alti. La vertenza Unieuro entra nel vivo. Da domani si terrà il primo sit-in dei lavoratori davanti al punto vendita che sorge nel parco commerciale di Cavallino. Sono 37 a rischio di licenziamento, così come preannunziato dall'azienda che entro la fine dell'anno potrebbe dismettere il punto vendita. Numerosi sono stati tentativi di dialogo messi in campo dai sindacati di categoria che non hanno sortito effetti positivi. Fino al fallimento del cosiddetto tavolo di conciliazione promosso dal sindaco di Cavallino Michele Lombardi al quale aveva partecipato anche il presidente della provincia Antonio Gabellone. La chiusura dell'azienda al dialogo è stata stigmatizzata da CGL, Cisle e Will impegnate a difendere i 37 posti di lavoro in ballo nella Unieuro. Infatti, nei vari incontri, l'amministratore delegato, dottor Roscozzoli, si è dimostrato inflessibile nella volontà di chiudere l'azienda. I sindacati sono preoccupati perché temono che dopo la fusione di Unieuro con Marco Polo Expert possa essere ridimensionato proprio il primo marchio nel territorio salentino. Da 500 a 700 euro passa l'anticipo che la Iacobucci MK verserà ai suoi dipendenti. È uno degli impegni strappati all'azienda dai suoi lavoratori nella riunione tenutasi ieri pomeriggio tra il prefetto Giuliana Perrotta, l'impresa e i sindacati di categoria. Incontro chiesto a gran voce nella mattinata di ieri dai lavoratori che attendono la riconversione professionale da parte della Iacobucci che, come è noto, è subentrata alla British American Tobacco. Grazie alla mediazione del prefetto, riferisce il rappresentante sindacale aziendale Diego Bevilacqua, gli operai hanno ottenuto anche l'impegno della Iacobucci di far ruotare tutti i dipendenti nel ciclo produttivo, turnazione all'insegna dell'equità che sarà poi verificata, così come è stato concordato, in incontri mensili. Ma i lavoratori attendono soprattutto di essere ricevuti al Ministero dello Sviluppo Economico per ribadire il proprio disagio e per manifestare l'urgenza di una soluzione che si attende ormai da anni. Il prefetto Perrotta si è impegnato a rappresentare al Ministro la necessità di affrontare con urgenza l'avvertenza dell'ex-BAT. È giunta all'ottava edizione la Festa delle Migrante. L'appuntamento è per domani 9 agosto, a partire dalle 20, nel piazzale delle Quattro Colonne a Santa Maria Albagno. Un programma ricco e pieno di sorprese, organizzato dall'Associazione Migranti di Nardò e patrocinato dal Comune di Nardò e dalla provincia di Lecce. L'Associazione Migranti, molto attiva sul territorio, costruisce e coltiva contatti con i concittadini che per vari motivi hanno lasciato il proprio Paese. Dalle problematiche relative all'emigrazione del secondo dopoguerra, ha dichiarato il Presidente dell'Associazione Antonio Cavallo, si è giunti ad analizzare i nuovi flussi migratori che ormai uniscono tre generazioni di neritini. Nella serata saranno consegnate le pergamene ai soci residenti all'estero che si sono contraddistinti per il proprio impegno civile e alle donne che hanno raccontato la propria esperienza di vita nel video Donne e Migranti Salentine. Dopo la cerimonia di premiazione, la serata proseguirà con la musica di Tommaso Zuccaro e Salentu Cantu e con la degustazione di pettore, frisse e vino. Fino al 10 agosto il Museo dell'Accoglienza a Santa Maria al Bagno ospiterà una mostra di serigrafie del maestro Franco Gelli curata dalla provincia di Lecce dal titolo La Valigia dell'Emigrante. Osservare le stelle da una prospettiva unica A Calimera nuovo appuntamento per il Museo di Storia Naturale del Salento e dell'Osservatorio Faunistico della provincia di Lecce Domenica 10 agosto alle 20.30 appuntamento con la Sagra delle Stelle osservazione delle stelle nella notte di San Lorenzo attraverso i telescopi grazie alla preziosa collaborazione del gruppo Astrofili Salentini che illustreranno le meraviglie delle costellazioni e del fenomeno delle stelle cadenti Diversa le iniziative che si susseguiranno nel corso della serata la mostra fotografica Macro Nature di Antonio Leo che sarà allestita nel museo sino al 24 agosto le osservazioni astronomiche le suggestioni gastronomiche di prodotti tipici preparati dalla Proloco di Calimera la suggestiva cena nel bosco del museo la visita notturna del parco faunistico con la reintroduzione e natura di animali selvatici curati nel centro del recupero fauna selvatica dell'Osservatorio Faunistico Provinciale tre notti all'insegna di tradizioni e sapori musica ed emozioni, spettacoli e meraviglia e l'atteso originale evento invece di Caprarica le notti del mito un viaggio nel tempo alle origini del Salento giunto alla terza edizione Calos, l'archeodromo del Salento apre infatti i battenti lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 agosto a partire dalle 21 Calos si vestirà a festa con luci suggestive musica, danza, colori e fuochi sarà la festa dei Messapi popolo di 2600 anni fa che ha dato forma e sostanza alla terra salentina le notti del mito condurranno i visitatori nel cuore di questo popolo velato di mistero e magia con l'aiuto di attori, musiche e danze in un binomio storia-spettacolo che vedrà vicendarsi scene di vita quotidiana danze ancestrali e rituali stand gastronomici e gruppi musicali accenderanno ancora di più l'atmosfera l'11 agosto in programma è Talaretti e a seguire i Cianari il 12 agosto si esibirà lo storico gruppo Folk 2000 mentre il 13 sarà la volta dei Terra Mare e poi grande chiusura con gli Allabua di Gigi Toma e poi grande chiusura con gli Allabua di Gigi Toma